Buongiorno, sono il professor Russo, sono un nefrologo e mi trovo qui con alle spalle la bellissima vista del palazzetto dello sport nel terrazzo del poliambulatorio a Pollodoro, in piazza Pollodoro, quartiere Flaminio. Siamo qui perché vogliamo invitarvi e sensibilizzare soprattutto gli abitanti del territorio a venire a conoscere i propri organi fondamentali del nostro corpo, cioè i nostri reni, che come ho più volte definito sono il direttore d'organi, il rene è il direttore d'organi. Bene, il giorno 25 maggio faremo questa giornata di prevenzione volta a uno screening generale che si baserà soprattutto sull'esame delle urine, che è il primo approccio per conoscere questi organi così importanti e così fondamentali per il nostro organismo.